chiacchierata tra amiche a domenica in alessia marcuzzi fresca di esordio con bumerissima rai 2 è stata ospitata da mara venier con la quale condivide una sana e forte amicizia le due si frequentano spesso anche al di fuori dell'ambiente televisivo andando spesso a pronti via e subito si è cominciato a parlare del nuovo show timonato dall'ex conduttrice mediaset trovo molto carino questo programma ha rimarcato la zia con la marcuzzi che si è detta molto soddisfatta del risultato finale ottenuto sono molto contenta lo ho scritto durante la pandemia spero di essere riuscita capitolo addio a mediaset la veniera ha chiesto all'amica quanto le sia costata la scelta di fermarsi guarda è arrivata in un momento in cui doveva arrivare sono in una posizione fortunata potevo fermare ho deciso di prendermi di tempo per me ha spiegato la pinella che è anche reduce di un periodo non semplice dal punto di vista sentimentale nei mesi scorsi ha annunciato la fine del matrimonio con paolo calabresi marco a proposito del momento non facile vissuto dalla marcuzzi mara ha detto c'è stato un momento dove eri troppo magra ora sei bella come mai ti ho visto ti vedevo troppo magra ecco perché continuavo a farti la ma in studio è poi giunto luca tommassini coreografo nonché direttore artistico di bumerissima il danzatore ha raccontato di come la marcuzzi abbia lavorato duramente cimentandosi nella danza in modo serio l'ho messa in sala prove tutti i giorni da luglio tutti i giorni si è veramente impegnata ha narrato tommassini mi è venuto un fisichetto il commento orgoglioso di alessia poi ha tirato sul sedere l'eco del coreografo che ha provocato una reazione netta della conduttrice di domenica in sempre stato sul sedere di alessia scusami e una reazione netta della conduttrice di domenica in sempre la madre della conduttrice di domenica in sempre stato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.